Via libera al progetto di adeguamento della diga di Levane, la Regione ha deliberato la firma di un protocollo di intesa con la provincia di Arezzo, il comune di Laterina, l'autorità di bacino dell'Arno e Enel, che permetterà di invasare ulteriori 10 milioni di metri cubi di acqua rispetto agli attuali, aumentando quindi la sicurezza dell'Arno. Il costo stimato dell'opera è di circa 20 milioni di euro. È invece sparita ogni ipotesi di rialzo della diga della Penna, che avrebbe comportato pericoli per Ponte Buriano. Se alziamo le dighe di 5 metri possiamo riuscire ad avere un contenimento, una raccolta di qualcosa come poco meno di 10 milioni di metri cubi d'acqua, che è una percentuale importante per trattenere l'acqua nei momenti di difficoltà. Abbiamo l'accordo anche con il comune di Laterina, che abbiamo incontrato, è stato incontrato dall'assessore Bramerini, dall'assessore Ceccarelli, e noi sappiamo che firmerà perché abbiamo preso impegno a costruire ovviamente anche una diga come da tempo ci viene richiesto. I tempi di questo lavoro, bisogna dire, non sono brevi perché il progetto esecutivo dovrà essere vidimato da questa specie di ufficio tecnico presso il Ministero delle Infrastrutture, che per le dighe, dopo le esperienze problematiche e drammatiche che abbiamo avuto, dopo il variant, analizza in maniera minutissima, particolare, tutti i progetti di innalzamento delle dighe. Però io credo che farà anche discutere questo progetto, ma può essere davvero un progetto che contribuisce ad alzare il livello di sicurezza. Grazie.